Tutti per uno, uno per tutti, dobbiamo aiutarci e collaborare. Basta ad avere diverse opinioni su tutto, su tutto, tutti per uno ed uno per tutti, dobbiamo affittuarci a collaborare. Basta ad avere i contrasti, basta ad avere i contrasti. E' arrivato il momento di collaborare, è arrivato il momento di darci da fare, E' arrivato il momento di non sbagliare più, è arrivato il momento di fare sul serio, E' arrivato il momento di non sbagliare più, è arrivato il momento di fare sul serio, Di fare sul serio, di fare sul serio, di fare sul serio, di fare sul serio. E' arrivato il momento di fare sul serio E' arrivato il momento di fare sul serio